Pechino Express 2018 La RIVISTA TV Sorrisi e Canzoni, l'unico giornale ammesso sul set, ha rilasciato alcune anticipazioni circa all'organizzazione di un gruppo di lavoro che conta oltre 100 persone, che viaggeranno per l'Africa con una carovana che conta 15 furgoni. Le dieci puntate condotte da Costantino della Gerardesca, saranno incentrate sulle sfide tra otto coppie in gara quest'anno saranno due punti. I mattutini, Adriana Volpe e Marcello Cirillo, i promessi sposi, Roberta Giarrusso e Riccardo Di Pasquale, le mannequin, Linda Morselli e Rachele Fogar, i poeti, Mirko Fuezza e Tommy Puti, i surfisti, Andrea Montovoli e Francisco Porcella, i ridanciani, Tommaso Zorzi e Paola Caruso. Ecco le foto incriminate dei concorrenti in Italia. Fotocredits Instagram. .